buon pomeriggio amiche buon martedì sera ben ritrovate sul mio canale ci vediamo stasera per una comunicazione di servizio perché sono accompagnate il mio caminetto l'ho appena acceso fa un po freddino perché perché domani è la festa delle donne vabbè io non è che festeggi chissà che la mia vita scorre in modo normale sarà una giornata normalissima però se qualcuno di voi per la festa delle donne si volesse concedere un regalo ho deciso di mettere un piccolo codice sconto nel mio negozio etsy quindi c'è ancora qualche kit mi sembra due degli orecchini hop e uno degli orecchini provenza e poi mettere uno sconto anche sui bici che inserito all'interno di lo shop lo so ci sono solo una ventina di inserzioni ma io sono un po lenta in queste cose quindi volevo farvi questa comunicazione di servizio e il link ve lo metterò qui giù nell'info box e se riesco ve lo metto anche qui nelle schede non lo so non so se il caso di editare questo video di lasciarlo così naturale come perché sarà un video brevissimo cos'altro dirvi voglio ringraziare a tutte coloro ovviamente che mi hanno dato fiducia che hanno acquistato i kit qualcuno ha acquistato dei bici quindi niente sono contenta di questo e vorremmo quindi ringraziare tutte quanti voi sempre l'affetto cos'altro dirvi in tra qualche giorno ci sarà un video creazioni io sto continuando a realizzare qualcosina e ne approfitto per mostrarvi questi bellissimi orecchini al su cash e poi è appena arrivato sono appena tornata a casa e ho trovato questo pacchettino che della bbcraft quindi insomma tra domani dopo domani vedrete anche questa unboxing ok cos'altro dirvi nulla penso di avervi detto tutto quello che dovevo dirvi e niente naturalmente se avete richieste di qualche kit in particolare di qualche bici di cui c'è il tutorial sul mio canale potete anche mettermelo nei commenti niente ragazzi vi abbraccio e dal mio caminetto e da me buona serata ciao e naturalmente buona festa delle donne a tutte per domani ciao